Come cambia il volto commerciale e turistico delle città italiane? Lo spiega un'analisi condotta dall'ufficio Studio Confcommercio su 40 capoluoghi di provincia, da cui emerge che i negozi al dettaglio in sede fissa hanno perso dal 2008 a oggi il 13% di imprese, mentre crescono bar, alberghi, ristoranti e soprattutto il commercio ambulante. Grazie per la visione!